Il primo premiato è il commerciale per la meta, il signor Movoletto I. Abbiamo fatto fare una taglia per il nostro signor, il primo. Poi abbiamo il signor Pavlito Frizzero. Grazie. 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 Poi ho la pizzeria favorita, i fratelli Alice e Gabriele Pia. Grazie. 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 Poi la squadra Delta Volley, che ho visto, so che sarebbe rappresentata da Dino Gimiani e è arrivato in forza, perché è arrivato un lavoratore e anche un giocatore, però sono io e mi seguo davanti, quindi il vicepresidente è Nassalino. Grazie. 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 Grazie.